Buongiorno, mi chiamo Yoshiko Kurahara, mia storia è breve, vi racconto, ma molto breve. Io sono sopravvissuta di una storia molto triste e complicata, si chiama la violenza domestica. Mi trovo qua in Giappone da tre anni, vado avanti e indietro, Giappone e Italia, perché ho due figli. Quindi, trasmettendo l'amore per loro, pregando attraverso la mia musica, la mia voce, faccio questo mestiere. Mi canto l'amore, è una cosa meravigliosa. Sì, quest'amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e delle luci, tormento e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuor. Sì, quest'amore splendido è la cosa più preziosa. Sì, quest'amore è la cosa più preziosa. che incatena i nostri cuori, amore meraviglioso, alon. Scusate, sono durante piccola panza di la prova nel mio concerto che fra poco inizia. Buongiorno, a presto.